Avvocato Donnici, qual è la situazione dell'Abramo Customer Care? Purtroppo ad agosto scadrà il secondo anno relativo all'esecuzione del programma previsto dagli amministratori straordinari e il timore è che non ci sia la possibilità di proseguire. Questa è una cosa che vorremmo evitare anche perché dall'ultima relazione depositata agli atti del Tribunale i dipendenti sono 969 per i quali personalmente non credo che ci sia la possibilità di proseguire. Questo sulla base degli atti che io ho visionato fino ad oggi. Ma si può fare qualcosa? Si deve fare qualcosa. Sotto tanti punti di vista la vicenda non può passare in secondo piano. Non parlo solo di quello economico, parlo anche di quello sociale. Una cosa voglio dirla, nonostante quasi quattro anni di calvario i dipendenti stanno continuando a dare performance importantissima. Questo significa che a Crotone ci sono delle professionalità tali da poter consentire a qualsiasi imprenditore di subentrare ad Abramo Customer Care. Questo è il nostro augurio. Non lo dico io, lo dicono i numeri. Quindi la speranza è che prima di agosto si arrivi al passaggio tanto auspicato di consegne di queste persone, di questi dipendenti e dei collaboratori di tutti gli altri. Sì, però non possiamo dimenticare che questa situazione mette in evidenza la crisi economica non solo di 969 famiglie ma a questo punto anche della città. E' ovvio, sembra di ritornare al 1993. Io ero un bambino, ricordo che cosa successe, ma so anche meglio che cosa è successo dopo. Quanto è cambiato il volto di questa città dopo la chiusura delle fabbriche dal punto di vista economico, sociale e quindi sostanziale. Non possiamo permetterci il lusso oggi di perdere mille posti di lavoro.